Villa bifamiliare in vendita su tre livelli situata in piccolo complesso, nelle vicinanze di Parchitello, a Torre Amare. La villa è dotata di un giardino che circonda tutta la casa con prato inglese e piante ornamentali di pregio. La proprietà è composta da un piano rialzato che comprende un ingresso, soggiorno, salone angolare con termocamino, cucina abitabile, bagno con serie Devon e Devon e un terrazzo a livello angolare. Il piano primo è composto da camera da letto matrimoniale con grande terrazzo a livello, camera da letto per ragazzi, balcone terrazzato e bagno con doccia. Il piano seminterrato è reso luminoso dalle ampie finestre e dai due ingressi indipendenti anteriore e posteriore, ed è composto da salone doppio con termocamino, cucina abitabile, camera da letto matrimoniale con cabina armadio, studio, bagno, lavanderia, ripostiglio e terrazzo a livello con forno a legna e barbecue. La villa è dotata di tre sistemi di riscaldamento, termocamino, caldaia a pellet e riscaldamento autonomo a gas, oltre all'aria condizionata. Ogni vano è dotato di un sistema centralizzato di aspirapolvere indipendente e la proprietà dispone di un sistema di irrigazione totalmente rifatto con pozzo artesiano e sistema di accumulo di acqua. Impianto dall'allarme. La proprietà è ideale per due nuclei familiari. Immobiliare Rubino. Scegliamo per voi solo le case più belle. Rubino, not for all, non per tutti. Info web rubinocase.com